Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051 63 81 819. Buonasera, ben trovati con il telegiornale di ETV. Tanti gli argomenti di cui ci occuperemo anche questa sera, dalla cronaca al meteo, con i temporali che irrompono in questo agosto, a interrompere un po' il caldo che ci ha oppresso nell'ultima settimana. Ne parleremo naturalmente anche di calcio, perché il campionato sta davvero per ricominciare. Ma cominciamo con la cronaca, i momenti di paura che si sono vissuti questa mattina in pieno centro a Bologna, perché è scoppiato un incendio in una struttura per anziani, una casa famiglia in via De Carbonesi, in pieno centro storico, quattro le persone che hanno avuto bisogno di essere soccorse dal 118, solo uno degli anziani ospiti è stato poi ricoverato in ospedale, e per fortuna le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. Andiamo a vedere il servizio. Prima un botto proveniente dal bagno della struttura, forse per qualcosa di lasciato acceso, poi l'inferno non fosse per la pericolosità della situazione. Soprattutto il fumo ha però reso necessaria l'evocazione della casa famiglia, ritiro Germini. Nello storico edificio di via De Carbonesi 3, gestita dai padri Barnabite, due passi dalla zona pedonale di via D'Azeglio, struttura per anziani autosufficienti, che può ospitare fino ad una trentina di persone, solo 17 però gli ospiti in questi giorni di vacanze, ma il trambusto è stato notevole lo stesso. Sarebbe stata la cuoca attorno alle 9 ad accorgersi per prima del rogo, lanciando un aiuto e il successivo allarme, con polizia e vigili del fuoco intervenuti prontamente, iniziando così le operazioni di evacuazione dei degenti e di spegnimento delle fiamme. Con loro alcune ambulanze intervenute per soccorrere gli anziani, tre le persone ricoverate, un ospite di 85 anni, una parrucchiera che era nella struttura e una poliziotta portata in ospedale, dicevamo, per una leggera intossicazione da fumo. È successo che a un certo punto abbiamo visto un grande fumo, un'enorme quantità di fumo, uscire probabilmente dal giardino. E allora dopo abbiamo visto la polizia e i carabinieri che ci intimavano di uscire dalla scala di emergenza ed è stata una prova molto molto pesante perché il problema del soffoco l'abbiamo percepita. Alcuni sono all'ospedale, si sono ricoverati, tre, però sembra nulla di grave per accertamenti, avrebbero dovuto anche a me ricoverare. Via De Carbonesi è stata chiusa per la messa in sicurezza della struttura e l'allontanamento dei tanti curiosi che affollavano la strada. Alcuni degli attuali degenti hanno già trovato riparo presso le rispettive famiglie, per gli altri si stanno valutando le migliori sistemazioni possibili in attesa che Casa Germini torni pienamente fruibile. Via De Carbonesi è stata poi riaperta la circolazione nel primo pomeriggio verso le 14 degli ospiti della RSA età compresa fra i 96 e i 73 anni solo uno, come dicevamo, è stato ricoverato in ospedale per avere inalato un po' di fumo tre sono stati collocati presso parenti per i restanti, gli operatori del comune di Bologna stanno vagliando e organizzando le possibili collocazioni provvisori in attesa appunto di tornare nella casa famiglia. Ancora cronaca, doveva scontare quasi 12 anni di carcere per vari reati, dalla truffa ai furti allo stalking ma da qualche tempo lavorava a Bologna come badante per le persone anziane a smascherarlo e arrestarlo è stata la polizia. Lavorava come badante per anziani o persone in difficoltà in particolare in zona Massarenti, a Bologna chi lo aveva assunto per lavorare in casa di certo non sapeva che quell'uomo, un 55enne italiano era un truffatore incallito, ricercato dalla giustizia tanto che doveva scontare quasi 12 anni di carcere per vari reati, dalla truffa ai furti fino agli atti persecutori a trovarlo e arrestarlo sono stati gli investigatori della squadra mobile di Bologna a conclusione di una delicata attività di indagine agli uffici della questura era infatti arrivata la notizia che l'uomo, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Genova ultimamente si fosse trasferito a Bologna dove faceva appunto il badante in zona Massarenti e aveva trovato alloggio presso l'abitazione di un amico ieri una pattuglia lo ha identificato in via Mazzini avviando subito i controlli di polizia per verificare la sua identità in breve è emerso che si trattava proprio del 55enne ricercato nello specifico il cumulo di pene che deve scontare è di 11 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione oltre a una multa di 3.100 euro l'uomo, spiega la questura, è ritenuto autore di una serie di truffe messe a segno a Brindisi e Imperia fra il 2010 e il 2018 ma è accusato anche di atti persecutori commessi nel genovese dell'uomo gli investigatori non hanno diffuso le generalità non è ancora stato accertato se anche durante la sua attività di badante a Bologna possa avere commesso qualche reato il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Daniele Aiello è rimasto vittima di un tentativo di rapina ieri sera in via Zamboni nel centro di Bologna un uomo lo ha avvicinato con una scusa poi lo ha colpito sul torace per cercare di strappargli la catenina d'oro Aiello che ha 24 anni è riuscito a reagire si è divincolato e si è allontanato ma come sarebbe finita, dice, se la vittima fosse stata una ragazza oppure un anziano? Sentiamo il suo racconto Ieri sera passeggiando per il centro di Bologna prima mi ha tirato una gomitata un magrebino facendo il classico gesto dell'orologio sbottonato per poi venirmi incontro chiedendo di ricevere le scuse e successivamente prendendomi prima al braccio mi ha dato una pacca forte sul petto cercando di robarmi la collana che ero più sbottonato a me è andata abbastanza bene ieri sera ma se fossi stato da solo soprattutto se al posto mio ci fosse stata una ragazza un anziano non so come sarebbe potuta finire Daniele Aiello coordinatore regionale di Forza Italia Giovani spesso impegnato a segnalare e denunciare situazioni di degrado di insicurezza in città questa volta si trova a raccontare in prima persona un'aggressione che ha subito ieri sera in via Zamboni dopo averlo avvicinato con una scusa un uomo lo ha colpito sul torace per tentare di strappargli dal collo la catenina d'oro Aiello che era insieme a un amico ha reagito ed è riuscito ad allontanarsi raggiungendo una pattuglia dei carabinieri che era poco lontano è una situazione che purtroppo nel centro di Bologna in particolare avviene troppo spesso ieri è accaduta a me non mi meraviglio purtroppo perché ultimamente all'ordine del giorno tra furti, borseggi e appunto aggressioni è una situazione che non può assolutamente continuare io provvederò appunto a sporgere denuncia proprio perché è importante sollecitare attraverso delle denunce dell'insicurezza che c'è in città e attraverso appunto queste denunce l'auspicio è quello che aumentino appunto i presidi sul territorio Lei ha denunciato l'episodio ha raccontato l'episodio sui social e tra i commenti ci sono appunto persone che dicono di avere subito furti o scippi rapine Sì appunto è tutto un commento di cittadini bolognesi e anche commercianti che anche soprattutto in questi giorni dove la città è così tra virgolette deserta dove dovrebbe essere diciamo più sicura e invece tutti i giorni avvengono borseggi dove avvengono appunto furti ai negozi addirittura un commerciante scriveva che in una settimana ha subito tre furti scassi eccetera eccetera quindi non è una nostra percezione ma è un fatto reale e concreto di una città che è sempre più invivibile più insicura Restiamo in tema di criminalità spaccio, risse, accoltellamenti i residenti della zona intorno alla stazione di Bologna non ne possono più e vogliono incontrare il sindaco Matteo Lepore dopo la lettera inviata al ministro dell'interno piantedosi e il faccia a faccia nei giorni scorsi in questura che ha promesso un incremento dei controlli per calmierare la microcriminalità che attanaglia quella zona tocca ora al primo cittadino in assenza di interventi spiegano i residenti del supercondominio Alfa Beta Gamma che a faccia appunto sulla strada di fronte alla stazione percepiscono un senso di abbandono e ogni giorno alla microcriminalità si aggiungono i consumatori di droga gli spacciatori occasionali e i senza tetto i residenti in particolare della galleria 2 Agosto su cui si affaccia il grande complesso residenziale spiega il suo amministratore Stefano Paparella chiederanno dunque un incontro al sindaco per conoscere le scelte politiche sulla sicurezza e la lotta al degrado in questa zona della città Cambiamo argomento sono in preoccupante aumento anche nel nostro territorio i casi di West Nile tanto che il comune di Bologna ha predisposto una serie di interventi preventivi nelle zone ritenute più a rischio andiamo a vedere quali sono questi interventi Febbre alta, mal di testa, stanchezza e disorientamento sono questi i sintomi della West Nile malattia infettiva virale diffusa dalla puntura di Zanzara anche se in realtà non sempre anzi solo nei casi più rari la sintomatologia è presente nelle persone infette malesseri e sintomi a parte sono in netto aumento soprattutto in queste ultime settimane i casi di West Nile la Bologna ed intorni tanto che Palazzo d'Accursio ha deciso di passare al contrattacco per evitare l'eccessivo diffondersi della malattia oltre ad imporre i trattamenti anti-Zanzara negli ospedali e in tutte le residenze sociosanitarie e casi di riposo comprese il comune di Bologna ha deciso di combattere l'aumento di casi di West Nile con un intervento pervasivo in tutti i tombini pubblici e privati intorno alle principali manifestazioni serali saranno coinvolti nel trattamento la Montagnola il Parco del Dopolavoro Ferroviario il Giardino Parker Lennon il Giardino delle Popolarissime Villa Cassarini Piazza Lucio Dalla Piazza Pasolini Villa Serena il Parco delle Casarme Rosse e quello di Villa Angeletti la scelta dei siti di intervento come ha precisato l'amministrazione in una nota è avvenuta dopo un confronto con l'Ausl e sulla base della dimensione degli eventi di Bologna estate e dei rischi che sono stati individuati considerati per ora non necessari i trattamenti anti-zanzara in Piazza Maggiore in Centro Storico staremo a vedere Ancora una visita dei radicali nel carcere della Dozza di Bologna dove sarebbero state riscontrate condizioni definite disumane gli esponenti del partito fondato da Pannella hanno fatto il punto in una conferenza stampa proprio davanti al carcere sentiamo Il poco piacevole tour del partito radicale per le carceri italiane oggi ha toccato il carcere della Dozza già al centro di un mare di polemiche per il sovraffollamento dei detenuti quantificabile nel 160% della capienza del penitenziario e per diversi casi di suicidio che si sono registrati negli ultimi tempi un centinaio di carcerati in realtà è ancora in attesa di giudizio il 30% di loro è legato a reati per droga nel carcere bolognese non funzionerebbero nemmeno macchinariati a dare un minimo di sollievo ai detenuti in questo agosto bollente queste sono alcune delle problematiche sollevate dal partito radicale che proprio in queste ore compierà un'azione contro il governo proprio per questo abbiamo deciso ancora una volta anche per le condizioni di questo carcere di denunciare il ministro Nordio lo faremo oggi stesso perché quello che viviamo che vive questo carcere vivono tutte le carceri italiane è una situazione di tortura a cui il decreto carcere del ministro Nordio non ha posto fine e quindi dobbiamo in tutti i modi segnalare e manifestare questa condizione dei detenuti che infatti avevano molta voglia di raccontarci la loro situazione e che ci raccontavano l'insostenibilità delle situazioni di questo carcere sia a livello di lizio che a livello di condizioni di attività e di condizioni umane Uno dei temi di questo agosto bolognese è stato senza dubbio il caso New York Times dopo il polverone sollevato nei giorni scorsi e il botte risposta fra il sindaco Lepore e la giornalista Ilaria Maria Sala anche la situazione confabitare risponde in qualche modo alle critiche emersi in un articolo del quotidiano americano riferite agli eccessi del turismo bolognese Sentiamo Turisti mordi e fuggi che cercano un B&B sotto le due torri per trascorrere qualche giorno di vacanza Studenti a caccia di una sistemazione ad un prezzo abbordabile lavoratori stagionali o stabili che sono alla ricerca di una casa decorosa possibilmente anche in questo caso ad un costo sostenibile Per non parlare delle famiglie che non riuscendo spesso ad accedere ai mutui preferiscono optare per un appartamento in affitto Insomma tutte esigenze comprensibili e compatibili con una città che cresce cambia e si adegua e come se non bastasse ci si mette anche il New York Times ad accusare Bologna di overturism definendola un mangificio a cielo aperto Di pari passo però devono cambiare anche le politiche abitative messe in atto dal comune di Bologna a lanciare un messaggio chiaro e forte e confabitare l'associazione di proprietari immobiliari È un appello per costituire e convocare questo tavolo con tutte le associazioni proprio per affrontare assieme questo problema cioè le politiche abitative a Bologna vanno affrontate nel loro insieme non possiamo un giorno parlare del problema degli affitti turistici il giorno dopo parlare del problema delle case per gli studenti e dopo ancora parlare del problema delle case per i lavoratori bisogna affrontare tutto in insieme per dare una soluzione a tutti È fondamentale dunque secondo Confabitare studiare un protocollo d'intesa che garantisca il diritto dei proprietari a trarre un reddito dai loro immobili senza però compromettere la qualità di vita dei residenti degli studenti e dei lavoratori Nel passato si è fatto tanto e si fa anche oggi tanto per far sì che Bologna diventi una città attrattiva per il turismo però chiaramente bisogna anche offrire ai turisti un'ospitalità anche un'alternativa a quelli che sono gli alberghi A Bologna ci sono 4.000 appartamenti che sono stati destinati ad affitto turistico ma questo non è il problema i proprietari che affittano e che liberamente decidono di mettere a reddito il loro appartamento seguendo l'affitto turistico non possono essere considerati dal Comune di Bologna un problema Il Comune considera questi proprietari che hanno affittato con affitti turistici considerano il problema e quindi sta mettendo dei paletti proprio per evitare che i proprietari possano seguire questa strada prendere questa decisione in realtà non è con queste proibizioni che risolviamo il problema ma con delle agevolazioni Tra i diversi comitati di cittadini che protestano ci sono anche quelli dei residenti dei colli bolognesi che lamentano in particolare l'altissimo volume della musica che proviene dai locali estivi che si animano in queste settimane e il parcheggio selvaggio lungo le strade appunto dei primi colli di Bologna sentiamo la musica ad alto volume per tutta la notte e il parcheggio selvaggio delle auto i residenti di via di Casaglia e via di San Luca a Bologna non hanno pace sia per il rumore acustico che per il disagio vissuto quando la strada diventa aria di sosta non autorizzata e quindi pericolosa il caos si è accotizzato da quando in città ha fatto capolino il caldo estivo e i locali dei colli bolognesi sono diventati una meta alla ricerca di un po' di fresco da tempo i residenti chiedono all'amministrazione comunale di trovare una soluzione al problema che risaputo non è solo è appena del periodo estivo lo scorso aprile è stato Vasco Rossi a smistare il traffico delle auto il tema è stato oggetto anche di diverse interrogazioni di Anna Maria Cesari consigliere del quartiere Porto Saragozza capogruppo di Forza Italia ora parliamo di meteo perché sembra che il caldo torrido delle ultime settimane stia cominciando a cedere il passo già oggi ci sono stati temporali isolati in molte zone del nostro territorio e ulteriori ondate di maltempo sono previste per il fine settimana è previsto anche un calo delle temperature di ben 10 gradi sentiamo il caldo africano la fronte perennemente imperlata di sudore le notti tropicali hanno le ore contate parola di esperto meteo che annuncia già per il prossimo weekend l'arrivo di piogge acquazzoni e udite udite un deciso e refrigerante calo delle temperature un po' su tutte le milie romagne e in particolare nella zona del bolognese l'ondata di calore che ci ha interessato nell'ultima settimana sostanzialmente è terminata ci aspettano ancora giornate con temperature comunque estive valori attorno ai 30 32 33 gradi per oggi e per domani poi da domenica diciamo è previsto un significativo calo delle temperature l'arrivo di una perturbazione sostanzialmente porterà precipitazioni e un abbassamento delle temperature sia domenica e ancora di più lunedì diciamo che comunque le temperature non è che calano che viene freddo rimaniamo su valori attorno ai 27 28 gradi domenica un po' qualche gradi in meno 25 26 diciamo lunedì poi da martedì torneranno nuovamente torna l'alta pressione torneranno nuovamente a risalire da domenica tutta la regione sarà interessata da questo passaggio perturbato portare a precipitazioni non continuative diciamo nella giornata di domenica quindi potrebbe essere un po' più spot però dovrebbero comunque arrivare anche sul bolognese e soprattutto la giornata di lunedì invece dovrebbe vedere precipitazioni un pochino più diciamo e interessare un po' tutta la regione soprattutto il settore centro orientale della regione quindi Bologna sicuramente Insomma la canicola di questi giorni darà tregua fino a inizio settimana poi da martedì tornerà estate piena e caldo ma con temperature più accettabili e non da record africano torneranno a salire attorno a 30 32 33 gradi però comunque ci sono valori nella norma del periodo insomma ancora estivo però non troppo caldo e staremo a vedere cosa ci riserva il meteo dal meteo passiamo allo sport con il calcio meno due all'esordio del Bologna contro l'Udinese il Dallara e i tifosi già a Fremono intanto oggi c'è stata la presentazione ufficiale di Juan Miranda gli indugi si stanno rompendo tra un paio di giorni sapremo che Bologna ci attende circa circorum nella stagione Champions 2024 2025 al netto di alcuni aggiustamenti che verranno di sicuro a rinforzo della squadra come faremo senza Calafiori e Zigzee è la domanda che impera faremo 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 senza come quelli di Pienza il cui centro storico è patrimonio unesco esattamente come i portici di Bologna intanto una delle punte di diamante del mercato rosso e blu il fresco campione olimpico Juan Miranda del giro della nazionale tra i più forti al mondo quella spagnola 24 anni ma già un curriculum infraeuropeo di primissimo livello numero 33 sulla maglia come gli anni di Cristo così si e ci racconta il primo impatto è decisamente positivo tutto mi ha sorpreso in positivo soprattutto il gruppo umano che si vive nello spogliatoio il gruppo è molto positivo è importante avere già altre buone sensazioni con i compagni di squadra in poco tempo ho già capito tutto questo ho già voglia di cominciare ho già voglia di prendere i primi tre punti già da domenica ringrazio Marco e tutto lo staff dirigenziale perché hanno creduto subito in me e mi hanno voluto con decisione qui a Bologna è molto buono questo verano con le Olimpiade quest'estate con le Olimpiade e successivamente questo per me è un passo avanti ulteriore per la mia carriera sono qui per aiutare la squadra e spero che sarà un anno entusiasmante ricco di soddisfazione la mia caratteristica principale è quella di essere un difensore che spinge un difensore offensivo così sono stato abituato sia nella cantera del Betis che nel Barcellona soprattutto nella Massia il gioco era molto offensivo poi però crescendo ho imparato molto anche la fase difensiva soprattutto in Germania giocando in Germania e l'importanza della fase difensiva ovviamente per un giocatore come me e naturalmente ETV seguirà Bologna Udinese la ripresa del campionato con tutte le consuete trasmissioni a cura della redazione sportiva per il telegiornale invece è tutto grazie come sempre per essere stati con noi buona serata ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda www.e-tv.it